Ciao a tutti diavoletti, oggi siamo all'Una Park! Esatto, potete vedere questa giostra molto veloce! Wow, lasciate un mi piace in 5 secondi se dobbiamo fare una giostra! 5, 4, 3, 2, 1... Cosa? Ci siete riusciti? Quindi adesso ci tocca fare quella? No Vinci, io non la faccio! Falla tu! No grazie, non ci tengo, io non salgo lassù! Diavoletti, quella giostra è molto veloce, guardate! Sì, è molto veloce, sì, guardate! Oh! Gira molto velocemente! Ok, ma avete lasciato un mi piace in 5 secondi! Allora facciamo questo? Sì, Vinci, dobbiamo fare questo! Ma adesso vi lanciamo una sfida, un'altra sfida veramente super difficile! Ok! Ok, come si chiama questo personaggio? Se voi riuscirete ad indovinare come si chiama questo personaggio in 10 secondi, noi saluteremo qualcuno! 10! 9, 8, 7, commentate qui sotto con il suo nome! 6, 5, 4, 3, 2, 1... Cosa? Ce l'avete fatta? Sì, avete indovinato? Si chiama, si chiama... Freddy! Eh sì, si chiama Freddy! Bravissimi! Quindi ce l'avete fatta, siete bravissimi! Adesso salutiamo? Salutiamo, salutiamo! Vinci, che bello questo Luna Park! Sì, siamo proprio in un Luna Park! Guardate, ci sono tantissime attenzioni qui! Salutiamo! Vittoria! Ciao Vittoria! Ciao Vittoria, un bacione! Ciao Vittoria! Oh, diavoletti! Adesso dobbiamo fare una giostra! Eh sì? Quale giostra scegliamo? Oh Vinci, guarda questa giostra! È super bellissima! Wow! Guarda in che posizione devi metterti! Diavoletti, guardate questa giostra! Sì, devi metterti a pancia in giù! Io non ci vado qui! Wow! Devi metterti in pancia in giù? Sì! Uh-huh! Preferisco questa, guarda! Molto più tranquilla, sì! Ok! Guarda questa! Eh? Guardate! Lì c'è la barca! Ok, diavoletti! Adesso Vinci farà una giostra! Eh... Vinci! Scegli sinistra o destra? Sinistra o destra? Sì, ci sono due giostre! Una meno veloce e una più veloce! Ok, spero di scegliere... Quante urla! Spero di scegliere quella meno veloce, Anjo! Sceggo la... La sinistra! La giostra! La giostra meno veloce, quindi vai lì! Ah, ce l'ho fatta! Io volevo farti fare la giostra più veloce! No, la giostra più veloce la fai tu! Ok! Diavoletti! Adesso Vinci salirà su quella giostra! Fra tre, due, uno... Ok! Diavoletti! Si sta preparando! Vinci si sta preparando! Ok! Fra poco questa giostra partirà! E Vinci farà tantissimi giri! Wow! Ok! Sta partendo! Vinci! Tutto bene? Adesso Vinci farà tantissimi giri! Wow! Che bell'inizio! Sì! È un bellissimo inizio! Vinci! Ok! Vinci sta volando! Adesso Vinci sta proprio volando! Vinci! Oh no! Vinci è in cielo adesso! E io sono sulla terraferma! Oh no! Oh! Ok! Noi siamo qui e Vinci è lassù! Guardate! Ok! Sta facendo tantissimi giri! Wow! Vinci! Wow! Quanti giri ha fatto Vinci? Contateli! Uno! Ok! Adesso il secondo! Oh! Secondo giro! Secondo me a Vinci gira tutta la testa! Eh sì! Ah ah ah! Ok! Vinci! Oh! Ecco Vinci! Diavoletti! Vinci sta facendo tantissimi, tantissimi giri! Oh no! Infiniti! Giri veramente infiniti! Vinci! Mi dispiace! Oh! Avete lasciato tutti un mi piace? Ecco perché Vinci ha fatto quella giostra! Ah 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 ah! Vinci! Ok! Si sta fermando! Si sta fermando! Ok Vinci! Adesso scendi! Non è che in questo Luna Park si nasconde un clown? No! In questo Luna Park non c'è nessun clown! No! Ci sono solo giostre! Solamente giostre! Ok! Vinci sta venendo! Vinci sta venendo! La giostra è finita! Ok! Vinci ti gira la testa? Santissimo! Oh! Questa giostra gira molto veloce! Oh! Mi dispiace Vinci! Vinci! Ti gira la testa? Oh! Dai! E se fosse capitata quella ancora più veloce? Ah 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 ah! Avresti dovuto fare quella più veloce! Sarebbe stato terribile! Guarda questa barca! Questa barca va molto veloce! Eh? Vinci! C'è un allarme? Un allarme in questo Luna Park? Cosa succede? Giavoretti! Perché c'è un allarme in questo Luna Park? Giavoretti! Cosa succede? Sentite anche voi un allarme? Eh? Sentiamo un allarme provenire da lì! Sentite? Eh? Perché? Cosa succede in questo Luna Park? Eh? Attenzione! È stata avvistata una carota! Attenzione! È stata avvistata una carota? Una carota? Una carota? E quindi? Vinci! Niente di pericoloso! Niente di pericoloso! No! È stata avvistata una carota? Io pensavo che fossi un clown! Ok! No! È una semplice carota! Quindi possiamo ritornare a divertirci sulle giostre! Vinci! Guarda! Guarda questa giostra! Le persone si mettono in questo modo! Wow! È come se tu dormissi! Non proprio Anto! Perché questa giostra gira molto veloce! Aspetta! Aspetta un po' che adesso inizia! Eh? Ecco! Diavoletti! Ma la carota dove si nasconde? Sali prima in alto! Wow! Sali in alto e poi tutte le persone si stanno rilassando! Ok! Adesso va molto più veloce! Sì! Diavoletti! Questa giostra è molto bella! Dovrei provarla? Sì! Dai Anto! Facci tu! No! Ok! Bene! Sinistra o destra? Sinistra o destra? Da una parte c'è questa giostra! Mentre dall'altra non c'è niente! Destra! Niente! Ok! Diavoletti! Questa giostra sta andando più veloce! Eh sì? Ma... Vinci! Perché è stata avvistata una carota? Cosa significa? Perché stai continuando a pensare alla carota avvistata in questo Luna Park? Non è niente di pericoloso! Tranquillo! Piuttosto sta a guardare qui! Guarda! Sta andando molto più veloce adesso! Sì! Questa giostra sta andando molto più veloce! Ok! Anto! Sembri molto preoccupato per quanto riguarda la carota avvistata in te! Vinci! Sono molto preoccupato! E se fosse una carota paurosa? Una carota paurosa? Tu intendi con i denti aguzzi? Cosa? Vinci! Guarda! Ciao! Vedete quella... Cosa? Ciao! Vedete quella carota? Vinci! Guarda! Guarda! C'è una carota bebè lì? È proprio lì che carina! Sì! Ma perché è così piccola? Vinci! Ok! Sì! Vediamo la carota! Sì! Ed è molto carina! Dai! Cosa dobbiamo fare? È una carota bebè? Ha bisogno di voi? Quella carota bebè ha bisogno di noi? Cosa possiamo fare per questa carota bebè? Cosa dobbiamo fare? Se volete far crescere quella carota dovete fare delle sfide! Dobbiamo far crescere quella carota bebè? Guarda! È proprio una carota bebè! Ok, Anto! Ma io... Accettate? Aspetta, Anto! Sì! Sì! Accetto! Accettiamo! Accettiamo! Assolutamente sì! Diavoletti è così bello? Io non ho mai visto una carota gigante nella vita reale! Vi rendete conto? Ottima risposta! La prima sfida per far crescere questa carota è vincere un peluche! Fate presto! Sta piangendo! Cosa? La carota bebè sta piangendo? Anto, senti? Sì, certo che senti! Quella carota bebè sta piangendo! Guardate! Guardate! E sta piangendo! Ok! Vinci! Dobbiamo... Sbrigatevi! La carota vuole un peluche! Ok! Quindi dobbiamo vincere un peluche per quella carota bebè? Sì! Anto, ma sai perché sto facendo tutto questo? Perché vuoi aiutare quella carota? Perché non ho mai visto una carota mega gigante nella vita reale! Sarà una carota mega gigante! E noi adesso prenderemo un peluche per quella carota perché sta piangendo! Ok, diavoletti! Quella carota bebè sta piangendo! E se noi vogliamo far crescere quella carota bebè dobbiamo vincere un peluche! Bene! Andiamo da quella parte! C'era qualcosa lì? No, da quella parte! Oh, ok! Dai! Vinci! Adesso dobbiamo vincere un peluche per quella carota bebè perché sta piangendo! Diavoletti! Riusciremo a vincere un peluche per quella carota bebè? Ok, vediamo! Vinci! Guarda quella giostra! Diavoletti! Qui ci sono tantissime giostre super bellissime! Wow! Ma cosa fa? Vinci! Questa giostra è veramente molto veloce! Cioè ti gira al contrario? Sì, ti gira! Sì, ti gira al contrario! Ok, diavoletti! Grazie, grazie! Non cagliandosi da più! Meglio andare a prendere il peluche per quella carota bebè? Sì, meglio prendere il peluche! Però adesso è meglio vincere un peluche! Ok, siamo arrivati! Abbiamo visto questa banana super gigante! E secondo me potrebbe piacere a quella carota bebè! Cosa ne pensi? Sì, secondo me questa banana gigante piace molto a quella carota! Carota? Ti piace quella banana gigante? Sì! La carota ha detto sì! Ok, quindi dobbiamo vincere questa banana mega gigante, ma in che modo? Vinci, secondo me devi far cadere quei cubi! Ma diavoletti, come facciamo a far cadere quei cubi? Non lo so! Ok, diavoletti, dobbiamo vincere questo gioco! Dobbiamo farlo per quella carota bebè! Perché guardate! Quella carota bebè? Vuole un peluche! E noi adesso vinceremo questo peluche mega gigante! Esatto! Ok, io ho tre tentativi per far cadere quei cubi! Eh sì, devono cadere tutti i cubi! Vinci, ci riuscirò? Spero di sì! Ok, adesso iniziamo con la prima palla! Ok, devo far cadere quei cubi! Vinci, inizio! 3, 2, 1, facciamolo per quella carota bebè! Oh, diavoletti, guardate! Un cubo! Sì, c'è proprio un cubo lì! Sono caduti due cubi, ma uno no? No, uno no! Devono cadere tutti! Devono proprio cadere tutti! Sì, ma il problema è che mancano soltanto due tentativi! Ok, il secondo tentativo lo rifaccio! Dai, vinci! Faccio cadere quelli! Ok! Dai, vinci! Ok, 3, 2, 1, facciamolo per quella carota bebè! Oh, Vinci, guarda! Guarda! Wow, quella banana è super gigante! L'ho vinta! Mhm! Quella carota bebè sta continuando a piangere! Oh! Eh? Questa volta non ho colpito niente! Eh, no! Ok, adesso l'ultimo tentativo! Diavoletti! Quello! Sì, proprio quello! Oh! Sono caduti tutti! Guarda, Vinci! Cosa? Wow! Adesso dobbiamo scegliere una banana! Ce l'ho fatta! Lì sono caduti tutti proprio con il terzo tentativo! Quindi adesso stiamo per vincere la nostra banana! Sì, la banana sta arrivando! Cosa? Vinci, guarda questa banana! Wow! Diavoletti! Abbiamo vinto una banana! Cosa? È super gigante! Vinci! Sì, questa banana è super gigante! Diavoletti! Se vi piace questa banana, commentate con un cuore rosso! Ok! Sì! È molto... Sì! È gigante! Vinci! È alta quanto me! Guarda! Portiamo questa banana super gigante a quella carota! Oh! Guardate! Diavoletti! Questa banana è super gigante! Eh sì! Può anche dormire su una panchina! Ok! Ok! Diavoletti! La carota è proprio lì! Adesso do questo peluche gigante alla carota! Ok! Tieni carota! Il peluche è tuo! Vinci! L'ha preso! L'ha preso! Vinci! La carota l'ha preso! Eh? Vinci! Cosa dici adesso? La carota! Forse adesso manderà un messaggio? Diavoletti! Eh? Adesso la... Cosa? Adesso la carota sta crescendo! Guardate! Sta crescendo! Vinci! Guarda! Guarda! La carota sta crescendo! Vinci! È diventata più grande? Sì! Questa carota era effettivamente più piccina! Adesso sta crescendo! Diavoletti! Cosa succede? Cosa succede? Perché dobbiamo far crescere cosa? Cosa dice? Ma la carota ha bisogno di crescere ancora di più! Cosa la carota? Vinci! Forse deve diventare gigante! Ok! Diavoletti! Aspettiamo i messaggi! Cosa? La seconda sfida per far crescere la carota è fare una giostra! Scegliete voi! Dobbiamo scegliere la giostra! La seconda sfida per far crescere quella carota è fare una giostra! Possiamo salire su questi? Vinci! Che belli questi aeroplanini! Diavoletti! Dobbiamo scegliere una giostra! Quindi sbrighiamoci perché quella carota deve crescere! Secondo me dobbiamo fare... La carota è scomparsa! Vinci! Dobbiamo fare una giostra! Così questa carota crescerà e diventerà gigante come quella banana! Ok! Quindi? Andiamo a fare questa? Vinci! No! 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 Non facciamo questa! Che belle queste mongolfiere! Diavoletti! Sono veramente super bellissime queste mongolfiere! No! Vinci deve fare una giostra più veloce! Sinistro o destra? Questa volta scelgo la... Destra! Destra? Giostra veloce! Eh sì! Devi fare una giostra veloce? Che tipo di giostra veloce? Diavoletti! Che ansia! Adesso Vinci farà una giostra veloce perché ha scelto proprio destra! Ok Yanto! Non sei divertente! Ti faccio il solletico! Non puoi fare gli aeroplanini Vinci! Devi fare... E neanche le mongolfiere? No! Devi fare una giostra veloce! Neanche questi lecca lecca giganti? No! Devi fare una giostra veloce! Ok! Dove andiamo quindi? Quella! Questa! No! Quella no dai! Guardate! La giostra veloce! Ho veramente molta paura! Ok diavoletti! Adesso Vinci farà la montagna russa! Eh sì! Guardate! Questa è proprio una montagna russa! E adesso vinceremo la seconda sfida! Appena Vinci salirà sulla montagna russa! Ok! Adesso Vinci salirà sulla montagna russa del clown! Restate a guardare perché Vinci farà questa montagna russa! Eh sì! Fra tre, due, uno... Vinci dove sei? Non è che Vinci? Oh no! Non è che Vinci non vuole fare questa montagna russa? E adesso... Non troveremo mai più Vinci? Oh no! Ecco Vinci! E si sta mettendo in prima fila! Eh sì! Oh che ansia! Ok! Questa montagna russa partirà e andrà molto veloce! Guardate! E io non vedo l'ora di divertirmi! Meno male che Vinci ha scelto la giostra veloce! La montagna russa è partita! E adesso andrà molto veloce! Fra poco! Andrà molto veloce! Wow! Sì sì! Sta salendo! Sta salendo! La montagna russa sta salendo! Ok! Fra poco! Fra poco andrà veloce! Wow! Sta andando veloce! Eh sì! Vinci! Come stai? Wow! Ok! La montagna russa sta andando molto veloce! Vinci! Cosa? Ok! Sì! È molto veloce! La montagna russa sta andando molto veloce! Cosa? Non sapevo che ci fosse un altro giro! Ok! La montagna russa sta continuando ad andare avanti! E adesso? Adesso andrà molto più veloce! Eh sì! Andrà molto più veloce! Dai che quella carota sta crescendo! Quella carota sta proprio crescendo! Ok! Vinci mi dispiace! Mi dispiace! Ok! Vinci! Ok! Ok! È finita? Sì! Forse Vinci si sta sentendo male? Oh no! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Vinci ha fatto una giostra! Eh? Vinci che c'è? Ti senti male? Ok! Dai Vinci! Ma meno male ce l'hai fatta! Adesso hai completato la seconda sfida! Quindi la carota è proprio lì ed è super gigante? Sì! La carota è super gigante! Guardate diavoletti! La carota è super gigante! Ciao Vinci! Come state? Stai salutando? Oh fammi! Vinci! Oh fammi! La carota sa anche parlare adesso! Ok! Dobbiamo fare qualcosa! Dai carota! Devi crescere ancora di più! Adesso sei gigante! Eh sì diavoletti! È proprio alta quanto noi! Vinci! Altri messaggi! La carota ci... Cosa? La carota sta crescendo sempre di più! Adesso l'ultima sfida? L'ultima? Ok c'è un'altra sfida per far crescere quella carota gigante! Diavoletti ma quella carota deve crescere ancora di più? Oh no! L'ultima sfida per far crescere la carota è comprare tre cibi! La carota ha fame? La carota ha fame? Ok! Diavoletti! La carota gigante ha fame! Eh sì! La carota gigante ha fame! Guardate! Ho fame! Ho fame! Si sta dicendo fame! Quindi Vinci noi ci stiamo prendendo cura di questa carota! Oh sì perché è molto carina! Ok! Vinci dobbiamo trovare tre cibi! Ma dove troviamo tre cibi in questo Luna Park? Non lo so! Forse da quella parte! Vinci devo dirti una cosa! Secondo te? Secondo te cosa succederà quando compreremo tre cibi? E quando la carota sarà completamente gigante! Non è che la carota diventerà super gigante? E diventerà un mostro! Oh ciao! Secondo me la carota ci schiaccerà con i suoi piedi! Diventerà super gigante! Eh sì! Alta! Molto alta! Quindi secondo te dobbiamo comprare tre cibi? Sì! Dai! Compriamo tre cibi! Vinci guarda quel maialino! Wow! Quel maialino è super bellissimo ma... Vinci noi dobbiamo trovare tre cibi! No pelus! Vinci! Qui ci sono tantissimi peluche! Ma non c'è cibo! Guarda qui! C'è anche Super Mario! Eh sì! C'è anche Super Mario! Ed è mega gigante! Guardate! E c'è anche Todd! Ciao Todd! E poi c'è Yoshi! Ciao Yoshi! Ma diavoletti non sono cibo! Non sono cibo! No! Ok diavoletti! Abbiamo trovato un posto che vende cibo! Eh sì Anto! Guarda ci sono qua! Zucchero filato! Tantissime cose! Quindi qui potremo trovare tre cibi per la carota! Ok diavoletti! Adesso andremo lì! Proprio alla cassa! E compreremo tre cibi per quella carota! Vinci! Secondo te dobbiamo comprarli? Sì! Cosa mai potrebbe succedere Anto? Quella carota ha fame! Ok! Andiamo! Quella carota ha fame! Quindi compriamo tre cibi! Andiamo! Ok diavoletti! Abbiamo comprato tre cibi per quella carota! Guardate! Qui ci sono dei popcorn veramente gustosi! Wow! Sono dei popcorn veramente buonissimi! Eh sì! Non posso mangiarlo? No! Non puoi mangiare i popcorn! Sono per la carota! Ok! Quindi diavoletti! Non possiamo toccare il cibo della carota? No! Ok! Quindi ci sono i popcorn! Poi c'è... Wow! Un prezel! Un prezel super gigante! Eh sì! C'è un prezel super gigante! Vi piacciono? Wow! No! È per la carota! Oh! Hai ragione! Ok! Un prezel! E poi... Zucchero filato! Wow! Vinci! Posso aprirlo? Posso aprirlo? No! È per la carota! Sempre tutto per la carota! Ok diavoletti! Qui abbiamo proprio tre cibi! Un prezel! Popcorn! E zucchero filato! Tre cibi che ci ha chiesto... La carota! La carota che si sta avvicinando! Vinci! Ok! Vuole dare un morso! Vuole dare un morso! Oh! Vinci! Ha dato un morso! La carota ha dato un morso al prezel! Ok! Non ti preoccupare! Ci sono anche i popcorn! C'è anche dello zucchero filato! Potrei mangiare molto abbondantemente! Carota vuoi popcorn? Ok! Tieni! Oh! Cosa? Ha finito tutti i popcorn? Ehm... La carota ha proprio fame allora! Sì! La carota ha proprio fame! Diavoletti! Non ha lasciato neanche un popcorn! Neanche uno! Ok! Ma adesso manca l'ultimo cibo! Ehm? La carota ha mangiato due cibi? Beh! L'ultimo è proprio qui! È dello zucchero filato! Ti piacerà? Tieni! Carota! Ecco tantissimo zucchero filato per te! Oh! Vinci! Cosa? Ha lasciato solo la busta! Ha mangiato tutto! Sì! Ha mangiato tutto! Hm? Lo zucchero filato! Neanche! Oh sì! Un pezzettino! Solo un pezzettino! Oh! L'ha anche mangiato! Ok! La carota ha mangiato tre cibi! Ha mangiato tre cibi! Quindi possiamo buttare tutto? Ha mangiato proprio tutto! In un attimo! In un attimo! Oh! Aspetta! Vinci! Vieni! Cosa? Vinci! Adesso... Avete nutrito la carota ma adesso sta per succedere qualcosa di brutto? Cosa? Cosa sta per succedere? Eh? La carota sta diventando cattiva? Cosa? La carota sta diventando cattiva? Vinci! Cosa abbiamo combinato? Abbiamo nutrito un mostro? Eh? Vinci! Adesso cosa succede? Vinci! Eh? La carota? Vinci! La carota è diventata cattiva? Hai visto la carota? Sì! Abbiamo tutti visto la carota! Adesso è proprio una carota malvagia! Sì! Diavoletti! Potrebbe essere dappertutto! Dobbiamo fare molta attenzione! Vinci! La carota! La carota cattiva è lì! Guarda! Eh? Vinci! Guarda! La carota cattiva si sta nascondendo dietro quel cestino! Cosa? Guarda! Guarda la sua faccia! Diavoletti! Quella carota si sta nascondendo lì dietro! Ok Vinci! Secondo me dobbiamo andare via da questo Luna Park! Vinci! Anch'io! Vinci! Mi hanno mandato un messaggio! Vinci! Cosa? Aspetta! Sto parlando con me! Diavoletti! Lì vedo Vinci! La carota cattiva sta parlando con Vinci! Ok! Carota cattiva dagli occhi rossi! Cosa vuoi da me? Vinci! Vinci! Aspettando! Ma perché? Fammi leggere! Ma aspetta! Ma perché abbiamo aiutato questa carota a crescere? Tranquillo! Non succederà nulla! Almeno spero! Ok! Vinci! Avvicinati al cestino! Sono la carota! Ok! Quella carota è proprio nascosta dietro quel cestino della spazzatura! Diavoletti! Sì! La carota è proprio lì dietro! Eh! Vinci! Devi avvicinarsi! Perché dovrei avvicinarmi? Ok! Così la carota andrà via una volta per tutte! Ok! Vai pure! Diavoletti! Non è che la carota cattiva rapisce Vinci? Ok! Secondo te devo andarci? Vinci! Vai! Secondo me la carota cattiva vuole salutarti! Salutarmi! Sì perché noi... Sì perché forse vuole ringraziarmi dopo tutte le cose che abbiamo fatto per la carota? Sì! Abbiamo vinto una banana gigante, poi abbiamo comprato ben tre cibi e poi sì... Hai fatto anche... tu hai fatto anche una montagna russa per la carota? Hai ragione Anto dimenticavo sì! Oh! Diavoletti! Abbiamo fatto molto per quella carota quindi adesso vado di certo non mi farà nulla! Secondo voi succederà qualcosa di brutto? Oh! Vinci si sta avvicinando? Vinci ti stai avvicinando a quel cestino? Oh no c'è la carota cattiva che vuole incontrare Vinci! Vinci attenzione! Vinci controlla se c'è la carota! Vinci chi è che ti sta attirando? Chi è che ti sta attirando? Aiuto! Vinci! Cosa succede? Eh? Diavoletti? Cosa è successo? Vinci? Dove sei? Vinci! Oh no! La carota paurosa ha rapito Vinci? Lo sapevo! La carota paurosa ha rapito Vinci! Perché ha proprio tirato Vinci da qui! Oh no! E adesso cosa devo fare? Cosa devo fare? Vinci! Adesso come faccio a cercare Vinci in questo Luna Park? Questo Luna Park è super gigante! La carota paurosa ha proprio rapito Vinci! Vinci! Dove sei? No! Non è Vinci! Vinci non si nasconde su questa giostra! Andiamo a controllare nel bagno del Luna Park! Eh sì! E? Diavoletti! Non c'è nessuno! Guardate! Non c'è proprio nessuno in bagno! Ok! Vinci non si nasconde in bagno! No! Non si nasconde nel bagno del Luna Park! Vinci! Dove sei? Vinci! Vinci non si nasconde neanche in bagno! Adesso sono da solo in questo Luna Park! Sono proprio da solo in questo Luna Park! E Vinci non tornerà mai più! Tutta colpa di quella carota! Cosa? Un messaggio? La carota mi ha mandato un messaggio? Dobbiamo leggere questo messaggio insieme! Ho rapito Vinci! Per salvare Vinci devi seguire le mie regole! Cosa? Devo seguire le regole di questa carota? Quindi devo fare tutto quello che la carota mi dice? Oh no! Per prima cosa devi tornare a casa! Vai via dal Luna Park! Ok! Guardate! Il Luna Park si sta illuminando! Eh sì! Il Luna Park si sta proprio illuminando! Guardate! Adesso? Doveva essere una giornata super bellissima! Al Luna Park convinci! Ma purtroppo la carota ha rovinato tutto! La nostra giornata al Luna Park è stata rovinata da una carota! Eh sì! Io e Vinci dovevamo vincere un peluche! Eh sì! Non abbiamo neanche giocato! Ok! È arrivato il momento di andare via! Ciao peluche! Oh! Guardate! Ci sono tantissimi Super Mario! Molto rari! Ma purtroppo! Io e Vinci non... Non siamo insieme! E quindi non possiamo giocare! Ok Vinci! Io adesso seguirò le regole di quella carota! Quindi uscirò da questo Luna Park! Usciamo da questo Luna Park? Sì! Perché dobbiamo seguire le regole! Siamo usciti! Siamo usciti da Luna Park! Guardate! Questa è l'uscita! Ciao ciao! Ok! Diavoletti! Oh! Sei tu? Diavoletti! Qui c'è il nostro cagnolino! Siamo tornati a casa! Eh sì! Siamo tornati a casa! Senza Vinci! Diavoletti! Vinci non c'è qui con me! Oh no! Questa casa! È vuota senza Vinci! Diavoletti! Vinci non è da nessuna parte! No! Vinci non è da nessuna parte! Guardate! Ok! Dobbiamo fare qualcosa! Dobbiamo fare qualcosa! La carota potrebbe nascondersi! Oh no! La carota? È sotto la sedia! No! Non c'è la carota qui sotto! Oppure si nasconde sotto la tavola? No! No! Non c'è nessuno! Sotto la tavola! Ok! Il nostro cagnolino è molto triste! E sta cercando Vinci! Sì! Sta cercando Vinci dappertutto! Ma... Oh! Vinci non c'è! Mi dispiace! Oh no! Dobbiamo fare qualcosa! Diavoletti! Ok! Io sto seguendo le indicazioni di quella carota! Io sto seguendo le indicazioni di quella carota! Eh sì! Sono tornato a casa! E sono da solo ormai! Sì! Sono proprio da solo! Adesso cosa vuole quella carota? Diavoletti! Cosa dirà quella carota? Io non voglio fare tantissime cose bruttissime! Oh no! E se la carota mi facesse fare delle penitenze bruttissime? Ok! Adesso noi ci ritroviamo da soli qui! Con il nostro cagnolino! Oh! Oh! Vuoi? Oh! Ok! Diavoletti! Il nostro cagnolino vuole darmi affetto! Siamo molto tristi! Vinci! La carota! La carota! Sono la carota! Hai seguito quello che ho detto! Sì! Sei tornato a casa! Eh sì! Adesso devi fare una sfida! Una sfida? Accetti! Sì accetto! Va bene! Leggi tutto! Devo leggere tutto? Perché? Diavoletti! Dobbiamo leggere tutto! Gli indovinelli iniziano! Siete pronti diavoletti? Aiutate Anto! Se sbaglia una volta perderà per sempre Vinci! Oh no! Diavoletti! Io... Devo fare degli indovinelli! E sono iniziati! Dovete aiutarmi! Perché se sbaglio non vedrò mai più Vinci! Ok! Di che colore è Bamban? Bamban? Diavoletti! Di che colore è Bamban? Vi ricordate? Giallo? No! Bamban è rosso? Sì! Bamban è di colore rosso? Di Gartenhomber... Sì! È rosso! Ce l'abbiamo fatta! Diavoletti! Commentate con il vostro punteggio! Ok! Aiutatemi! Dobbiamo risolvere tutti gli indovinelli! Aiuto! Questo è più difficile! Chi è? Indovina da... Cosa? Indovina dall'ombra? Ok! L'ombra è una tv e una persona? La persona tv di Schibi di Toilet? La persona tv? Sì o no? Rispondimi! Ok! Sì! È la persona tv di Schibi di Toilet! Ok! Ce l'abbiamo fatta! Ma dobbiamo risolvere tutti gli indovinelli per salvare Vinci! E non dobbiamo sbagliare neanche una volta! Adesso? Chi è questo personaggio? Diavoletti aiuto! Io rivoglio Vinci qui con me! Eh sì! Non posso restare da solo per sempre! Quindi dobbiamo indovinare! Questo personaggio è... Freddy! Sì! Perché è il cappello di Freddy! Sì! È Freddy! Ce l'abbiamo fatta! Ok! Diavoletti! Adesso abbiamo indovinato! Ma saranno sempre più difficili! Cosa? Diavoletti! Questo è un water più una faccia! Water più faccia! Aspettate! Un water mi ricorda Schibi di... Più una faccia! La faccia nel water! Schibi di Toilet! Schibi di Toilet! Sì! Diavoletti è giusto? Schibi di Toilet! Faccia nel water! Dai! Sì! È Schibi di Toilet! Ok! Non stiamo sbagliando! Non stiamo sbagliando! Meno male! Dobbiamo salvare Vinci! Dobbiamo... Salvare Vinci! Ok! Aiutatemi! Eh? Come si chiama questo personaggio? Questo personaggio si chiama... Ok! Eh... Questi capelli sono... Eh... Aspettate! Vi ricordate? Sì! Secondo me si chiama... Amanda! Amanda l'avventuriera! Sì! Lo ricordo! Amanda! Sì, Diavoletti! È proprio Amanda! Ok! Non dobbiamo sbagliare neanche una volta! Meno male! Meno male! Cosa? Sole più occhiali? Diavoletti! Ma questi sono difficilissimi! Oh no! Dovete aiutarmi! Sole più occhiali? Un sole più occhiali? Forse... Occhiali da... Sole? Sì! Occhiali da sole! Diavoletti! Occhiali da sole! Occhiali da sole! È la risposta? Che ansia! Che ansia! Aspettiamo! Aspettiamo! Sì! Occhiali da sole! Evviva! Non stiamo sbagliando! Non devo sbagliare! Evviva! Evviva! Devo rivedere subito! Vinci! Cosa? Diavoletti! Questo che cos'è? È un grandissimo problema! Forse... L'acqua? No! Non è l'acqua! Non è una bottiglia! Forse è un milkshake? Di... Grimeis? Il milkshake pauroso del McDonald's? E... Cosa? Sì! È il milkshake di Grimeis! Ciao Grimeis! Aiuto! Aiuto diavoletti! Avete mai bevuto questo milkshake? Io sì! Ok! E adesso cosa? Diavoletti! È questo? Oh no! Chi è questo personaggio? Chi è questo personaggio che... Uh! Sì! Sta facendo un salto in questo modo! Forse... È Super Mario? Sì! Ha il cappello di Super Mario! Poi Super Mario salta in questo modo! Proprio così! Sì! Super Mario! Sei tu? Sì! Sei tu Super Mario! Ok! Commentate con il vostro punteggio! Diavoletti adesso! E adesso... E adesso? Cosa? Questo è difficilissimo! Aiutatemi! Aiutatemi! Devo salvare Vinci! Dobbiamo sconfiggere quella carota! Trova la stella diversa! La stella diversa... Diavoletti sono tutti uguali! Aspettate! Avete visto anche voi? Sì! Questa stella ha una bocca? E nessuna stella ha una bocca! Ce l'ho fatta! Ho trovato la stella diversa! Ok Diavoletti! Ma adesso cosa succede? Adesso cosa succede? Ho risolto tutti gli indovinelli? Mi hai sconfitto! Sì! Hai risolto tutti gli indovinelli che ho preparato per te! Hai salvato Vinci! Cosa? Hai sconfitto la carota! Ciao! 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 Carota! Oh no! Mi dispiace per la carota perché noi abbiamo cresciuto quella carota con tanta cura! E quella carota è scomparsa per sempre! Ok! Ma almeno ho salvato Vinci perché quella carota è scomparsa! Sì! Abbiamo sconfitto questa carota! Evviva! Festa! 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 Sì! Festa! Ok! Ma adesso dov'è Vinci? Adesso che abbiamo sconfitto questa carota guardate la carota non c'è più! Noi dobbiamo vedere dove si trova Vinci! Ok diavoletti! Vinci forse qui! No! Vinci non è qui sotto! Uffa! Vinci dove sei? Ti nascondi dentro la luce? No! C'è solo una lampadina qui! Diavoletti! Ma! Se non rivedessimo mai più Vinci? Oh no! Questo è un grandissimo problema! Ok! Vinci non è da nessuna parte! Quindi non abbiamo salvato Vinci! No! Non abbiamo salvato Vinci! Cosa? Sì! C'è qualcuno che sta bussando! Il nostro cagnolino! Cosa? Oh! Dobbiamo aprire la porta! Eh? Ok! Diavoletti! Non è che si nasconde la carota? Non è che si nasconde la carota lì? Sentite! C'è qualcuno che sta bussando! Sta cercando di aprire la porta! Ok! Diavoletti! Non è che si... Sta anche bussando! Sta anche bussando! Ok! Basta! Diavoletti! Forza e coraggio! Dobbiamo aprire quella porta! Vero? Ok! Non è che la carota? Diavoletti! Io e il nostro cagnolino stiamo avendo tantissima paura! La carota potrebbe... Potrebbe entrare in casa nostra! E se fosse la carota lì? Ok! Forza e coraggio! Forza e coraggio! E apriamo questa porta! Dai! Oh! Stai scappando! Dai! Resta con me! Ok! Diavoletti! Apriamo questa porta fra tre, due, uno... La carota? Cattiva sei tu! Tanto? Vinci! Abbracciami! Abbracciami! Oh! Siamo tornati tutti e tre insieme! Per le malunque! Siamo tornati! Siamo tornati tutti e due che... In un certo modo! In un certo modo! Siamo tornati tutti e due... Andiamo... Siamo tornati tutti e due... Voi! Grazie.